previsioni meteo di domenica 20 al nord c'è richiusi su tutte le regioni con il rischio spaziale alla costa al centro instabile con piogge e ronasci spazi in attenuazione in Toscana neve e veno di piano in serata tra Toscana e Manco al sud instabile con piogge e ronasci spazi in attenuazione in serata da ovest neve e caro fino a 620 metri in serata venti moderati settezionali e deboli variati mari da agitanti a molto mossi al centro instabilità diffusa con piogge e ronasci spazi in attenuazione in Toscana neve e veno di piano in serata tra Toscana e Manco al sud instabile con piogge e ronasci spazi in attenuazione in serata da ovest guardo visco v Vasano guardo visco v Vasano Grazie a tutti.